Una verità ancora lontana, quella sull'omicidio di Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Rovatin. Proprio la sentenza che dopo 16 anni in carcere ha assolto Ashi Omar Hassan, finora unico imputato dell'omicidio, ha clamorosamente messo in evidenza come il Somalo sia stato il capo espiatorio per nascondere i veri colpevoli. Ancora adesso battermi per sapere chi ha ucciso mia figlia. Non è che mi batto perché torni a casa, per sapere chi l'ha uccisa. Nelle motivazioni della sentenza presentata a Montecitorio, i giudici della Corte di Appello di Perugia hanno scritto dei tentativi di insabbiamento nei precedenti gradi di giudizio. Ricostruzioni a cui la famiglia Alpi non ha mai creduto. Sono ancora molte le domande che aspettano una risposta. Su cosa stava indagando Ilaria Alpi quando venne uccisa, ma soprattutto a chi fanno riferimento i giudici quando parlano di depistaggio? La Procura di Roma dovrà ora decidere se aprire un'indagine per fare chiarezza su tutti coloro che potrebbero aver mentito. Chi di noi in questi anni ha detto tornare a riaprire tutti i cassetti del caso Alpi-Rovatin aveva assolutamente ragione ed è anche per questo che la Federazione della Stampa questa volta si costituirà parte civile. Gradirei che il Presidente della Repubblica leggesse le motivazioni, così la madre di Ilaria Alpi, al termine della conferenza stampa, un accorato appello per far sì che la storia dei due non venga dimenticata. Grazie. Grazie. Grazie.